Benvenuti ragazzi, io sono Jesus e oggi si riprende con il meglio di mezzo alla forza Black Ace. Siamo nell'episodio 42 ragazzi. Allora, l'ultima volta è successo, sono successe tantissime cose. Siamo praticamente riusciti a penetrare con un segreto del deal. Il problema è che dobbiamo distruggere questa macchina che contiene il crimson e lo immagazzina, però per farlo possiamo, cioè praticamente possiamo farlo solo noi perché è protetta da un sistema difensivo. Nooo, sono ritornati i primi, come nella prima serie di Mega Master Force, praticamente c'è il, come si chiama, c'è la strada d'onda distrutta. Quindi tocca a noi ragazzi sistemare la strada d'onda, proseguire e arrivare in cima al nucleo, in cima al quello di energia. Eh, dimmi tutto zio. Il rumore non ti infastidisce? Sei proprio come uno di noi. Sì, posso dirtelo. Sei un tipo a posto. Non dovrei dirtelo visto che sei uno straniero, ma visto che sei come noi. Ascolta, c'è una porta più avanti, dietro quella porta c'è un corridoio. Per poter arrivarci devi girare tutti i pannelli. Per girarli basta salirci sopra, ma stai attento. Non potrai muoverti sui pannelli che hai già girato. Però non preoccuparti, per passare basta girare su un altro pannello. Se arrivano in bloccato potresti risettare tutto premendo il pulsante B. Ma se risetti troppe volte, beh, ti dirò, non sarà piacevole. Ad ogni modo, prova e scopri la tua spesa. Oddio. Ah, easy. Ah, ok, 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 ok. Semplice, semplice. Sono i soliti enigmi. Sì, ok, è abbastanza semplice sembra. Ok. Ok, sì, questo qua, no, anche questo è semplice. Ok. L'ho appena presa. Ok. Ok. Sono abbastanza semplice. Salviamo, perché sembra esserci qualcosa qua. Sono abbastanza semplici e anche abbastanza veloci da fare. Ok ragazzo, sistemiamo una volta per tutta questa macchina. Sicuro. Cosa? Oh no, è una trappola. Ah, non riesco a muovermi. Non posso crederci. Che diavolo ne dovremmo fare adesso? Esattamente non saprei. Ma a qualunque costo dobbiamo uscire da qui? Ci penso io. Ehi, quello è un noto musicale? Non potrebbe essere nient'altro, niente meno che Arp Note. Sonia, qui posso pensarci io. Tu continua, Geo. Ok, grazie dell'aiuto, Sonia. Cosa? Ah, il rumore qui è così intenso, ma quei due sembravano stare bene. Sono contenta che abbiamo potuto aiutarmi senza causargli altri guai. Geo si preoccuperebbe troppo se ci vedessi in questo stato. Beh, muoviamoci. Sei la migliore, Sonia. Ogni giorno sono una nuova sorpresa. Se la farei piangere, te ne pentirai. Ok, ho capito adesso. Effettivamente. Ok. Wow. Abbiamo riparato la stata d'onda, eh? La stata d'onda è interrotta e adesso è integra. Dovremo riuscire ad attraversarla. Ok. Quindi proseguiamo nella nostra missione contro via. E dobbiamo accedere anche qua. E purtroppo qua così. Potrei anche non tagliare questi indovinelli perché sono abbastanza carucci. Ok. Ah, maledetti. Oh, che cavolo? Come cavolo si fa? Ah, sì. Ho iniziato male io. Ecco, dovevo fare così e sarebbe stato tutto più semplice. Vedete? Sennò io mi sono, mi sono perso via in un bicchier d'acqua. Ok. Ok. Come si destreggia? Attenzione. Strano questo. Ok, parecchio strano. Molto strano. Oh, vabbè. Ho finito. Non ho finito per niente invece. Ok. Fatto. No, come ho detto? Ho sbagliato. Sono un deficiente. Porca ingenio. Ho sbagliato. Ho sbagliato così. Sì. Ok. Perfetto. Perché ho sbagliato così? Proprio. Ok. Questa era easy, posso dirla? pericolo. Pericolo. No, no, no. Non l'ho salvato. Fermi. Oh, che cavolo. E' incredulato. 1600 zen. Perfetto. Oh, cavolo. Non l'ho salvato. Eh, vai, pazienza. Sembra che non si possa fermare o spegnere. Dovevo distruggerla. Che cavolo. Ah, mi è boscata. Non mi piace. Potrebbe volerci troppo finire tutti questi tipi. Vero. Ma abbiamo qualche altra scelta? Fermatevi. Ci occuperemo di questi tipi del posto vostro. Occupatevi del pannello di controllo. Ah, ah. Cosa? Non potete. Il rumore qui è troppo forte per voi. Se non ve ne è andata più presto voi, non preoccuparti per noi. Non andremo fuori controllo. Non è possibile per noi fare le cose terribili che fanno i wizard impazziti. Abbiamo un programma di autodistruzione che lo impedisce. Aiuto. Autodistruzione? Ah. Il rumore in questa area è incredibilmente forte. Abbiamo già raggiunto il nostro limite. Megaman, è stato bello finché è durato. No. Perché? Siamo membri coraggiosi della Prinzia Satella. per la pace e la giustizia. È un luminoso fortuna per la gente di questo mondo. Ma perché? No. 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 Alla madonna. Esplosione atomica l'ultima. Si stanno tutti sacrificando per noi. Sono tutti... Forza, ragazzi. Erano qui per realizzare il loro proposito, vero? Hai ragione. La strada onda è stata riconnessa. Bene. Le onde M qui intorno sono diventate un po' più forti. È come se tutti si stessero dicendo di tenere duro. Non intendo deluderli. È vero, si stanno tutti sacrificando per noi. E con questa musica qua, come si fa in ultima. Forse siamo all'ultimo, ragazzi. Siamo all'ultimo step di questa nostra avventura. Saluta giù più grande. Ok. Macchina Crimson 3. Ok. 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 schlimqui. Ok. Ci ho fatto. Perfetto. Non mi lamento. Ok. Ok. sembra che io sto facendo Vai Ok Ok Fermi tutti Ok c'è qualche quadra che non cosa L'unica cosa che posso fare all'inizio è questa Poi al massimo posso fare così Tanto per Ok Sì Sì Quindi se io adesso parto da qua Ho finito sì Perfetto È stato complicato quello Ah ce n'è ancora Ah questi qua sono quelli prima di Ok Salviamo perché mi sa che siamo proprio vicini Ok Cosa C'è il sembro di Mu lì sopra Deve trattarsi del pannello di controllo del nucleo energetico È quello che Il sembro di Mu Come avete detto solo Il dealer sta usando il potere di Mu Per i suoi fini Beh ragazzi C'è una sola cosa da fare È ora di fare E di fare a pezzi questa cosa Così non può Così da non farla funzionare mai più Sì Credo che il simbolo non sia d'accordo Cosa sta facendo? Ah Ah Dovevamo Dovevamo stare in guardia Il mio potere viene assorbito O dovrei dire piuttosto che viene consumato Il nostro cambio d'antenne sta Non va bene Se quando tornerai umano sarai ancora nel nucleo programma Non voglio neanche pensarci Ragazzo Fai transautora Non riesco Non ne ho la forza Dile Ho trovato il tuo giocattolo Che dispositivo patetico Che è successo? Non riuscivo a muovermi Ehi ragazzo Smettila di agitarti Non so cosa è successo Ma colpiamo alla svelta questa cosa D'accordo E altre esplosioni atomiche Beh è ancora intero comunque Wow Ci siamo andati vicini Almeno questa cosa non funzionerà per molto tempo Non c'è motivo di restare qui ragazzo Facciamo il transaut Sì Chi mi ha aiutato? La strada d'antenne è ritornata integra Chissà dove conduce Cosa intendi fare? Vuoi tornare indietro a fare rapporto? No Proseguiamo Nulla è più importante in questo momento Ah ah Questo è il mio ragazzo Bene Sembra che avevamo la possibilità di prendere a calci Il deal Senza dubbio Forza mega Quella è Non ci credo Quella è la place Ho trasformato in una spada Quindi è stato solo Ad aiutarmi Non ci posso credere Ok ragazzi ma Andremo ad affrontare Joker e King Nella prossima parte Quindi se il video vi è piaciuto Lasciate un commento E vi piace Iscriviti E non ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi No 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 Futtana 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 Sei morto No 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 Ho tre cuori tre cuori tre cuori Mi faccio ti devo salvare Dai a rigenerti È bello che non c'ho Aia Snake what's wrong? Snake? Snake!